Anche Biceglie si dota di uno strumento strategico concreto per decidere lo spazio da dedicare al trasporto motorizzato e quello da riservare viceversa alla mobilità ciclistica e pedonale, nell'ottica non di una sfida ma dell'individuazione di un equilibrio che porti ad una maggiore vivibilità e attrattività dal punto di vista turistico. Può essere inquadrato in questi termini il piano urbano della mobilità sostenibile, la cui fase iniziale di studio è stata presentata ieri a Palazzo Tuputi con l'intervento di esperti ed amministratori. Ad esporre le principali linee guida del PUMS l'ingegner Stefano Ciurnelli, tecnico incaricato della redazione del piano. Il piano si radica su un impianto di dati importanti che sono stati raccolti subito dopo la fase acuta del covid e da lì abbiamo proposto alla cittadinanza attraverso un documento di indirizzo e delle cartografie che già prefigurano in maniera semplificativa quelli che potrebbero essere gli elementi distintivi del PUMS di Bisceglie. Una grande attenzione alla pedonalità e il recupero di un rapporto tra l'entroterra e la costa, una grande scommessa sulle aree centrali, sulla qualità dello spazio della città, rilanciare o meglio far cominciare a funzionare il trasporto pubblico che questa città avrebbe dovuto da sempre avere e con grande fatica e con grande impegno finalmente il trasporto pubblico dovrebbe fare la sua comparsa nello scenario della mobilità complessiva. Presenti all'incontro l'assessore regionale ai trasporti e alla mobilità sostenibile Anita Mauro di Noia. In questo piano anche Bisceglie che ha partecipato a un mando regionale e che ha avuto 55 mila euro della regione per appunto redare un piano che servirà sicuramente a programmare la viabilità, i parcheggi, la ciclabilità, la pedonalità quindi credo che stiamo migliorando la vita dei cittadini, quindi uno strumento fondamentale e importante. Il piano urbano della mobilità sostenibile tiene in debita a considerazione i principi di integrazione e valutazione e soprattutto di partecipazione degli stessi cittadini come rimarca il sindaco di Bisceglie Angarano. La filosofia del piano è quella di aprirsi alla cittadinanza attraverso una partecipazione attiva che è parte fondamentale del piano di mobilità sostenibile. Questa è la presentazione di tutta quella raccolta di dati, di analisi che sono fondamentali per consentire appunto non soltanto ai tecnici ma anche e soprattutto ai cittadini di fare le proprie osservazioni e di migliorare il piano che in quanto tale è uno strumento dinamico. Io devo ringraziare la Regione Puglia non soltanto per il supporto nella redazione del piano ma anche e soprattutto per i tanti finanziamenti che fanno riferimento chiaramente a una progettazione e una strategia generale sulla mobilità che ormai a Bisceglie è diventata imprescindibile.